Musica Bentornati! Salve a tutti! Questo è Lime Odyssey L'Odyssey dei Limoni Un gioco veramente carino Allora, questo è un'alpha Annunciamo subito E annunciamo subito che questo è il remake dell'audio originale Eh sì, per problemi tecnici Nel montaggio E' successo anche piccolo intoppio E quindi L'audio originale andava Cavorosamente fuori sincro E abbiamo dovuto registrare Comunque, le classi sono più o meno quelle solite Ne ho fatte due, un mage e un warrior Ma ho livellato solo il mage Perché quando ho avuto questi giochi La prima cosa che guardiamo è L'animazione delle spalle E le tette Non necessariamente in quest'ordine Eh, potremmo avere Gestars Il mio gatto Eh, credo di sì Detto anche mezzo chilo Che potrebbe intervenire Annossi questa finestra sotto, grazie Voi non la vedete Ma io sì E mi dà fastidio Ok Tolta via la finestra Che dà fastidio Grazie Ok, carichiamo Innanzitutto Una grafica di tutto rispetto Molto bella, sì Per essere un alfa Tra parentesi Sì, un alfa di un free to play In stile Eden Eternal Che a differenza di Eden Eternal però Mi piace di più Perché è meno fumettoso Anche a me E qui Se avete notato I saltini nella sabbia Alzano nuvolette di sabbia Tipo adesso I saltini nell'erba Alzano nuvolette di erba Adesso lascia Espelle il gatto È una grande chicca Aspetta Allora Qui in questo caso Vedete il gatter dei mestieri Avete due set Il set da combattimento E quello Per i mestieri Quello per i mestieri Vi date il buff Quando gatterate Cioè quando raccogliete E quando produce degli oggetti Abbastanza facile riconoscere L'obiettivo delle quest C'hanno un enorme punto esclamativo Giallo Sulla capoccia E se ci fate caso C'è anche gente che gioca Sì Io non ci ho fatto caso Quando l'abbiamo Giocato Ma c'è tanta gente che gioca in giro E soprattutto Questi mostriciattoli A parte il capo Dei mostriciattoli Che è questo Con il mazzettone Hanno un rastrello In mano Non è un rastrello A parte Non mi ascolti A parte questo Che è il mazzettone Ma lo vediamo A un altro Mi pare di sì Tipo a questo Adesso Adesso Guarda Guarda viene Con il rastrello In mano Mi picchia con il rastrello Ecco Qui c'è un salto temporale Eh ma più o meno Abbiamo fatto Continuato a fare Quello che Che stavamo volendo Vi ammira Che offre anche I riflessi nottuni Questa Diciamo Commento Asincrono Ci permette di notare I dettagli Non l'avevo notato All'inizio Non l'avevo notato Il rastrello Comunque lei Quando raccoglie Queste cose Si abbassa In una maniera vergognosa Sì c'è mortata La gente abbassandosi così Ma brutta Sai E poi qui Il tuo trip Vedere l'acqua Dopo svuoto Siamo abbastanza Scettici Sul fatto che Sulla presenza L'acqua in gioco Diciamo Un titolo Per cui si sono spesi 40 milioni di dollari L'acqua via Arriva alle ginocchia Seppure Seppure Un titolo Che forse ha speso Un centesimo Di quella cifra Non solo potete votare Adesso vedrete Ma lo faremo vedere Lo faremo vedere Mi ricordo Stiamo raccogliendo Ah c'è l'Exp L'Exp Che è l'Exp di Mestieri Ovviamente Non devo dire Che a me è piaciuto molto Sì Questa è la mappa La mappa anche mi piace Perché è bella chiara A me Le cose stilizzate Tipo su Waterloo Ci siamo Non mi piacciono Ti fa veramente cacare E poi è fumettoso Quanto basta È proprio carino Sì Perché credo che Il nuovo trend Debbe essere Ma non l'avevo visto Che queste cose qui Sono a forma di stella marina Ti dicevo Credo che il nuovo trend Debbe essere Quello di Permettere a più giocatori Anche non con macchine Eccezionali Di giocare Di godersi dei titoli Poi vediamo Fai i titoli Fantasmagorici Gli effetti Sua macchina E poi l'acqua Sott'acqua In cui Ci schiattavi Perché non potevi respirare Ma anche a Monster Hunter Devi respirare ogni tanto Se non schiatti Per citare un altro titolo In cui si schiatta Frequentemente Sott'acqua E questi picciolini Sono carini però E poi Non l'abbiamo detto prima Ma guardate adesso Che muore Opla Sì Come un pesce vero A panci in su Bellino Io vi ripeto Stiamo giocando A 1680 Per 1050 Full effetto Perché? Perché questa è la macchina secondaria Non è la macchina 1200 Non è comunque Perché non ho 500 euro Per un super monitor Per 2000 Di soluzioni Che taccagnone Che sei Non so taccagnone L'ho trovato Sei un braccino corto Non è vero L'avevi trovato? No Era 1980 La massima di soluzione Parliamo di soluzione Sopra i 1980 Algo l'ho trovato Sennò Ho fatto il gesto L'ombrello Sei troppo lontano Ecco qui Mi siamo anche Eri lontanissimo Sì I vestitini Sono quello che sono Sembra una teenager Giappo China Scappata Da scuola Sei una teenager Giappo China Non so scappata Da scuola Ho fatto Sega Filone Non so così C'è a volte parti A scuola Vila mi pare Si c'è a Cagliari Boh Sondaggio Sondaggio Dici come si dice Non andare a scuola Quando dovreste Dalle vostre parti Fare filone Da noi fare filone Sopro dei palettieri Di merda Sì Sembra meglio Che fare sega Bigiare Da qualche parte Si dice Pure mi sa Ok Mentre uccidiamo pesci Vediamo Comunque Delle nozioni Io sempre Cerco di sparare Dalla culonia Ovviamente Ogni tanto Quando faccio Espera Sembra che sto in piedi Se proprio vogliamo Trovare un difetto Questo ok Non è che sembra Che sta in piedi Sta in piedi Proprio un difettuccio Glielo vogliamo trovare Sì vabbè Però Guarda che panorama Anche sott'acqua E guarda sopra Il mare I riflessi No 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 Guarda E poi ho fatto Benino Oddio sto Sto stonage Sott'acqua Secondo me Il cimitero Ma hai visto Anche Gli uomini Stilizzati Sì sì No no Guarda Sono tutti uguali Però sono carini Sono uguali Eh fa buone Vabbè Zomo Godtang Vabbè I nomi Sulla chat Di Siete Merde Vabbè Il gruppo Di bimbi minchia Ebbè È così Floido Che può Infestare Più giochi Contemporaneamente Sì Sono d'accordo Con te Abbiamo finito Di ammazzare Pesciazzi Penso Sì Con Rotten Ray Bolton Stolute Comunque È inguardabile Non c'è l'autolute Se proprio vogliamo trovare Un altro difetto Ok Va bene C'è ragione Era qua Che c'era la mucca Sì La mucca C'è anche la possibilità Di allevare Bestie Mi sa che ci andiamo Vero Ci passiamo davanti Guarda Mi chiedi troppo Ah vi faccio vedere Le skill Abbastanza base Uo style Ever quest style Sì sì Ma le dinamiche Le meccaniche È tutto abbastanza Ah per quelli interessati Possiamo dire Che sono tornato in possesso Del mio account Di Star Trek Online Evviva Dopo settimane Che c'è La mia account Non solo a me L'account Solo che a me Mi è andata malissimo Perché ci stavano Due livelli 31 Perché Però l'hanno fatto uguale Sti stronzi Ma Bah Chissà perché Per robe che poi cambi Dopo due livelli Sì Mi sono avuti però Buon dieci giorni Per ottenere l'account Sì è vero Così i giapponesi Pensano di interessi clienti Peccato che sono un lifetimer Quindi mi si devono Mi si devono Devono sopportarmi Ancora a lungo Mi si devono È molto indigeno Beh Sì è vero Ma è stata l'anno Che sono indigeno Se volevi dare un colpo Che cosa indigeno? Eh beh Ma non lo ripetiamo Stiamo a fargli E con le confine Non ci sento molto Non fa niente Passiamo così In scioltezza Qui ci sono gli uomini Arrastrati Il buio del rastrello Perché tutto si risolve Con un rastrello più grande Ah qui ecco Il rastrello più grande Sì C'è il rastrello piccolo C'è chi c'è il rastrello più grande Non ho manco visto La cesta di vimini Manco Nemmeno ho visto La cesta di vimini Neanche Dietro Sì Hop 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 Somarello Guardate qui le foglioline Quello che vi dicevo prima Qui faccio credo Qualche esempio di Sì anche qui Abbastanza base Si sceglie Quale azione Ho capito La sua Non c'è il mestiere porno stale Però quella cosa Questa è stata Più o meno Stiamo lì Ah qui c'è un amount Guardatelo Non l'avevo vista L'altra volta A livello 18 Carina Ma era un unicorno Unicorno Chiaccarezzerai Basta Beh beh Adesso ho dei figli Se tu esistesti E io ce l'ho Indovinate Il cartone Da cui è presa Questa canzone Non vincere Guarda il malai Che gira La fattoria La zona di Craft Diciamo Fattoria Più o meno Se allora prendiamo C'è uno spaventapastri Dove ho già preso la quest Molto ben fatto Sì sì E i vestitini Sono veramente Orripilanti Veramente brutti Comunque Questa freccia con le ali Vuol dire che c'è una quest Per noi E vi spiega anche Che dovete In questo caso E' una quest Per il farm merchant Quindi Comprare animali Di cosa si tratta E come si fa Lo vendere inglese Volevo notare Eh beh Io perché l'ho fisso Per delle ore Ehm Non lo so Cercavo di comprare Dispandendo la mucca Secondo me Beh forse sì Adesso C'eravamo dilungati Sulla mucca Comunque perché Cioè al farmer qui Perché mi piaceva L'idea Di sto maiale Che gira in tondo Guarda che Credo che abbiamo Quasi finito Con questa Comunque Un gioco Che mi è piaciuto Sì Molto Soddisfattissima Ecco Quando vedete invece Circoletti Dorati Tipo Quello Vuol dire che la quest La potete Ridare Restituire Mentre il circoletto Celeste Vuol dire Che Come al solito Qui mi scordo Di prendere un reward Te lo scordo Ecco per esempio Il cappello Io non lo metto Non lo metterò mai A meno che sono degli Elmetti ubissimi Perché nei primi livelli Soltamente fanno ridere E o Sono orrendi Come per esempio I cappelli Eccolo il cappello Però questo era carino Mi era piaciuto Guarda che carino E' una teenager scappata Da scuola Diceo I cappelli più brutti In assoluto Appartengono all'altro Sono proprio brutti Bellissimo Per un milione di altre ragioni Ma i cappelli più brutti Ecco Stia facendo vedere Come mi oscillano i capelli E saltando E' molto carino Sì Allora Vi salutiamo E probabilmente Qui provavo delle emote Vedete Se avremmo la possibilità Di tornare nell'alfa Se non ci abbandonare il canale Esatto Torniamo a visarvi Ciao a tutti Alla prossima puntata Ciao Guarda che carino il fucherello Proprio carino Ciao Ciao Ciao